Caro Andrew, la storia che ti voglio raccontare ebbe inizio prima della tua nascita. Tua madre aveva lasciato la nativa Chicago ed era in viaggio verso la Russia. Si trovava su un treno diretto a Mosca, dove la tendevano a fare molto delicati. Che? Sapeva che in Russia c'erano lo zar, il caviale, la vodka, gli ursi, e da qualche parte a Mosca un particolare gran duca che le interessava molto. Ti amo. Sei anche io. Voi, voi non mi amate. Voi, voi non mi amate. Voi, voi non mi amate.